Avete praticamente ancora due possibilità su quattro per vedere i Beatles perché Paul e Ringo tengono duro però avete tutte le possibilità del mondo per andare nel territorio della provincia di Belluno a filmare e a dare il vostro personale contributo alla musica bellunese attraverso una videocamera, una macchina fotografica o un telefonino con una buona risoluzione video infatti potete ogni settimana sbizzarrirvi in giro per il territorio a caccia delle nuove band o di band bellunesi consolidate in concerto e ce ne sono davvero tante filmatele, presentatecele e poi caricate i video su rockbelluno.it attraverso la community infatti più rock della provincia di Belluno ogni primo e ultimo mercoledì del mese Night in Day vi fa vedere che cosa accade musicalmente in provincia ecco allora questo nuovo contributo Ciao Giorgia, siamo a Belluno a vedere! musica 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti